Ancora si muovono in questa edizione, cosa presenta? Presentiamo una Robot Race, ovvero una gara di robot da programmare con dei computer ed è un modo per imparare a programmare quegli encoding in maniera originale, informale e divertente. Cosa proponete? Questi ragazzi che facevano dei test? Assolutamente, i ragazzi devono programmare sia i movimenti che le luci di queste macchine che si muovono su delle piste, piste fisiche, vere e proprie piste e devono appunto partire da uno start e arrivare in fondo tramite un percorso di ostacoli e chi prima arriva e quindi chi meglio programma, vince la gara. Quindi è un modo per diffondere la programmazione e come può essere utilizzato? Certamente, è un modo per comunicare l'innovazione e quindi per diffondere la cultura tecnologica in modo appunto informale, non con le classici lezioni teoriche un po' frontali ma in modo molto attivo, partecipativo, si parte dalle curiosità, dai bisogni, dagli interessi degli studenti e di tutti i partecipanti, adatto dai 0 ai 99 anni.